Rullo di tamburi, guardate che bellissimo vintage camper Ford Transit veramente veramente molto bello purtroppo non gli si può inquadrare il muso gustatelo per come si può che è stato parteggiato qua contro le erbe quello che si può vedere la luce è molto mancante siamo sotto la pioggia veramente veramente bello qua non ci fermiamo neanche sotto la pioggia questo settembre che ha fatto terminare l'estate targa ragioni torino meraviglioso complimenti al proprietario un camper di fila di 70 veramente bello video breve ma siamo sotto la pioggia video veloce ma sta cominciando a piove è molto forte per altri video come questo iscrivetevi lasciate like e commentare un saluto